Abbiamo provato in anteprima Switch Sport, nuovo gioco per Nintendo Switch in cui si gioca calcio, pallavolo, tennis, bowling e altro ancora, muovendosi per davvero. Proprio come nel vecchio Wii Sport, per giocare si simulano i movimenti dello sport in questione. Stringendo in mano o fissando alla gamba il Joy-Con di Switch, possiamo schiacciare a pallavolo, calciare rigori, lanciare la palla da bowling e così via. Switch Sport supporta fino a 4 giocatori in locale ed è perfetto per divertirsi con gli amici a casa, ma online le sfide arrivano fino a 16 giocatori. È frenetico e divertente, vi farà muovere parecchio e perfino sudare dalla fatica. Sarà disponibile per tutti dal 29 aprile, ovviamente su Nintendo Switch.